Cari amici ben ritrovati, guardiamo insieme anche per oggi la situazione meteoclimatica della nostra zona. La depressione ancora presente sul Mediterraneo centrale determina qualche nuvolaglia e qualche nucleo temporalesco sull'Italia, anche se in maniera molto più fratta e con fenomeni decisamente più sporadici e confinati quasi tutti in appennino. L'anticiclone africano infatti tornerà protagonista già da domani, giovedì 26 luglio, portando un cugno rovente sulla penisola ed in particolare sul meridione, dove nel fine settimana si raggiungeranno punte anche superiori ai 40-41 gradi, specie sulla Sicilia, la Calabria e la Puglia. I temporali visiteranno localmente la regione alpina e solo occasionalmente potranno sconfinare sulle zone pianeggianti del nord. Ma vediamo adesso cosa accadrà per oggi sulla nostra provincia, dove in particolare sul Messinese è ancora prevista qualche nube sparsa che accompagnerà tutta la giornata odierna. Le temperature poco sotto la media climatica del periodo si manterranno sui 29 gradi le massime e minime di venti. I venti di moderata intensità soffieranno da nord e nord-ovest ed il mare nello stretto di Messina sarà pertanto mosso. Sul versante tiranico prevalenza di cielo coperto, con possibili piogge nella giornata, temperature ancora sotto la media stagionale comprese tra 27 e 22 gradi. I venti di moderata intensità soffieranno da ovest e nord-ovest, con possibili raffiche fino a 23 km orari ed il martireno sarà mosso. Ed anche sul versante ionico nuolosità sparsa, con temperature anche qui in lieve calo, comprese tra 28 e 20 gradi. Venti di debole intensità soffieranno da nord e nord-ovest, soffiando nella sera, sempre da nord e nord-ovest ma di moderata intensità ed il marionio sarà pertanto tra il poco mosso ed il mosso. Nella giornata di giovedì 26 luglio torna il bel tempo su tutte le regioni. Qualche temporale, specie nel pomeriggio, sarà possibile nel profondo arco alpino, ma in attenuazione in serata. Una diminuzione della ventilazione è prevista un po' ovunque. Al centro e dal sud ancora un po' di nuvolosità lungo il versante triadico, specie al mattino e nelle zone interne durante il pomeriggio, occasionalmente associata a qualche temporale. Su tutte le altre regioni, generali condizioni di bel tempo con temperature in netta ripresa. Qualche ultimo addensamento è previsto ancora per la giornata odierna tra bassa Calabria-Tirrenica e Sicilia nord-orientale, dove non si escludono piovaschi o rovesci fin tutto il pomeriggio. Sulla nostra provincia, salvo una sparsa nuvolosità, non si prevedono precipitazioni. Le temperature si manterranno sui valori dei 30 gradi le massime e minime di 22. I venti di moderata intensità soffieranno da nord e nord-ovest, con possibili raffiche fino a 29 km orari ed i mari saranno poco mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Grazie per aver guardato il video.